Andrea Bari, ottava stagione iniziata questa mattina con un allenamento in Sala Pesi, bentornato al Palatrento e fa un po' specie dire ottava stagione perché sono proprio tante. Sì, sono tante, è passato un po' di tempo, però quando si inizia, si riinizia, è sempre bello, sempre un'emozione rivedere quelli che c'erano gli anni prima e anche conoscere le persone nuove che sono aggiunte al gruppo. Qui apparentemente è tutto uguale, ma in realtà ogni anno è una cosa diversa, se non altro anche perché portiamo divise diverse, quindi si capisce subito che sarà qualcosa di diverso e speriamo ancora più avvincente. È stato V-Day a parte fino ad ora un 2012 straordinario per te, parlo non solo di squadra o di club come Trento, ma anche pensando a tuo figlio Ulisse, alla medaglia di bronza agli Olimpiadi, alla presenza costante nel sesteto della nazionale italiana. Cosa ti porti dietro a questi otto mesi così importanti e cosa ti aspetti da questa nuova stagione? Se penso che mio figlio è nato il 5 di gennaio e ancora ci sono altri 3-4 mesi il 2012, credo che sia stato fino adesso un anno molto bello, molto importante, anche con sconfitte che bruciano, che però fanno parte della vita di un atleta e adesso abbiamo questa nuova stagione, un finire 2012 molto duro, molto impegnativo, ma con la possibilità di alzare al cielo altri trofei importanti. Sei entrato in un spogliatoio e sembrava che fossi uscito l'altro giorno per come ti hanno accolto o per il feeling che hai ritrovato immediatamente? Un bel segno questo? Sì, questo è una cosa veramente che in tutti questi anni è sempre rimasta e se non altro anche perché ci sono dei soggetti in squadra che veramente è impossibile non fare gruppo. Quindi è sempre molto bello, ho ritrovato il mio posto libero e questo è il mio posto dove mi cambio tutti i giorni. Tutto molto bene. Quanto pesa la medaglia di bronzo anche in funzione della stagione che sta per iniziare tra un mese? In realtà pesa molto a livello proprio di grammi, in realtà pesa molto di più per quello che rappresenta, per quello che è stato fino all'ultimo giorno, ce la siamo sudata, è un torneo apparentemente non difficilissimo dal punto di vista fisico, ma lo è dal punto di vista mentale, ti porta via tantissime energie mentali, molto stressante e forse questa medaglia pesa tanto anche per questo motivo qua. Grazie.